E basta, giusto? Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti, l'ultimo appuntamento è quasi una minaccia il fatto che poi si ritorni anche sulla rete, è un po' inquietante questa cosa. Allora, l'ultima chiacchierata che facciamo è un po' curiosa, perché mi sono divertito ad andare a ricercare lo sguardo da fuori, cioè come ci vedono noi friulani, gli autori altri, gli autori che vivono in altri contesti, vengono da altri contesti, sia geografici che culturali. E ho preparato così un piccolo percorso con nomi, alcuni nomi sono notevoli, li riconoscerete perché sono dei giganti, delle pietre miliari che hanno scritto di noi, anche se noi non lo sappiamo, non sempre lo sappiamo. Altri invece sono più curiosi, sono autori assolutamente incogniti, autori che si trovano nei fondi delle biblioteche, vecchie cinquecentine, edizioni del Settecento, che ci hanno dipinto in qualche modo, alle volte non molto lusinghiero. E cercheremo di divertirci anche, perché poi è bello vedere e accettare lo sguardo degli altri, perché ci aiuta un po' a stare davanti ad uno specchio, altrimenti rischiamo anche di perdere la dimensione delle cose. E allora comincerei con un personaggione davvero importante, che è niente po' di meno che San Gerolamo. Siamo tra la fine del IV e gli inizi del V secolo dell'era volgare, San Gerolamo è il traduttore, noto per essere il traduttore della Bibbia, dalla grande edizione in greco che venne fatta dagli ebrei alessandrini dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, e lui la traduce in latino, è la famosa Vulgata, un'opera immane, un'opera importante. Gerolamo era un nostro vicino di casa, perché le fonti dicono che nacque a Stridone, Stridone per essere così curiosi oggi si trova nella zona di Karlobag, siamo in Croazia, alcuni dicono più a nord nella zona del Velebit, grande montagna che divide la costa dall'entroterra, dall'entroterra croato. Fu uomo di grande cultura, di grande profondità. E parla di noi in diverse occasioni. Una famosissima è questa, lui capita ad Aquileia, la visita molto bene, che riconosce alcuni padri spirituali, tra l'altro, in Aquileia, i padri della chiesa aquileiese, quelli che si erano occupati di una rifondazione del credo, che a Roma non piacque poi molto, perché era un credo molto innovativo quello di Aquileia, riteneva che alla fine del tempo l'inferno sarebbe rimasto vuoto, per una questione d'amore, che il Cristo sarebbe sceso negli inferi e guardando in faccia i dannati avesse detto insomma, come fa a esserci festa e gioia se anche uno solo rimane chiuso fuori dalla porta? E le avrebbe portati tutti su, in cielo, assieme a lui. Compreso il demonio. E questa è una cosa molto controversa. È una cosa molto complessa anche da capire, difficile da accettare. Noi oggi stiamo qui a discutere se è necessario l'ergastolo o meno. Di fatto l'inferno è una forma di fine pena mai. E in questa teologia della liberazione, potremmo definirla così, Gerolamo era convinto, ascoltando i padri della Chiesa, che forse poteva essere un messaggio d'amore straordinario, così forte e così potente che anche il demonio, lo stesso Satana, si sarebbe commosso dalla bontà del Cristo ripiangendo, avrebbe di fatto pulito la caligine infernale dalle sue squame e dalla sua pelle ormai intossicata dall'inferno e sarebbe riapparso quell'angelo che era all'inizio, cioè Lucifero. Ma ebbe modo anche di ascoltare i canti della liturgia aquileiese e scrisse questa cosa che è molto bella, Aquileienses clerici quasi chorus beatorum. I chierici di Aquileia cantano come un coro di beati, come un coro di angeli. E poi ci metteva una punta un po' maliziosa nei confronti dei chierici di Roma dicendo che invece quelli cioè uggiolano e canticchiano e abbaiano come se fossero dei cani. Ma oltre a tutto questo descrive Aquileia, ci dà una descrizione molto bella della città, dice che è una città ricca di fermento, ricca di tanta gente e ha un occhio particolarmente attento nei confronti delle signore, delle matrone aquileiesi. La prima che ci descrive è la madre di Cromazio e di Eusebio, altri due grandi giganti, santi entrambi. Eusebio tra l'altro è quello che avrebbe ricondotto tutto il tempo, tutta la storia universale in un quadro, in un'unica linea partendo dal mito antico e dice di questa donna sia benedetta la vostra casa, beata di Mora. Che bello, no? Il riconoscere nel valore di una donna la capacità dell'accoglienza, la capacità di accogliere il forestiero, il pellegrino, il viandante e farlo sentire come se fosse a casa sua. È chiaro che gli Aquilegenses non sono i friulani, non si è ancora formato, no? Il friuli. Però sono un po' i nostri proto-antecessori, sono quelli che ci hanno inseminato un po', hanno creato questa nostra specificità in tante cose. E io in questa descrizione, in questa piccola notazione, sia benedetta la vostra casa, benedetta la di Mora, questa donna che tiene accesa la lampada, che la rimpingua di olio, che fa sì che la notte non sia una notte così buia e così oscura, che prepara da mangiare. Vedo tante nostre nonne che avevano questa consuetudine del tenere la porta socchiusa, mai chiusa, il senso dell'ospitalità, la bellezza, no? Di accogliere chi arriva, senza poi tante sofisticazioni. Mettiamo in tavola quello che c'è, quello che abbiamo. Fate come se foste a casa vostra, vi daremo quello che mangeremo noi stasera, bellissimo, senza troppe preoccupazioni. Noi oggi siamo attenti, forse troppo, all'etichetta, al non fare una brutta figura. Ma che brutta figura volete che si possa fare? Nel momento in cui si imbandisce la mensa di quel poco che ha, se tutto il resto è condito con l'amicizia, con la consapevolezza dello stare insieme, dello stare bene insieme. Quindi sono valori, sono i valori dei nostri vecchi. Ma non è sempre stato così vecchio Gerolamo a parlare con il Teschio e a confabulare con gli spiriti magni dell'antichità. È stato anche giovane quando frequentava Aquileia e ha un occhio molto, molto attento per le matrone aquilesi. Allora, è ovvio che queste gambe lunghe intrecciate dai calzari non sono quelle reali, sono gambe di una gentile fanciulla che si è prestata, però i calzari sono una ricostruzione molto verosimile e molto vicina alla descrizione che ci fece Gerolamo. Lui dice ma le donne aquilesi hanno qualche cosa di potente, hanno queste gambe che sono avvolte da fasce che sono così lunghe, che sembrano quasi un abbraccio di dita che accarezza la gamba fino ad arrivare al ginocchio, molto sensuale come affermazione. E poi si ferma a descrivere le varie acconciature delle donne aquilesi dicendo che amavano differenziarsi un poco come tutte le matrone romane ma con qualche grazia in più, con qualche elemento di sensualità in più. Ci dice che amavano portare delle acconciature molto alte con i capelli raccolti in modo tale che potesse emergere la lunga linea della nuca, cioè là dove i capelli finiscono e dove comincia il collo e scende piano piano fino ad indicare quel luogo misterioso e carico di fascino che sono le scapole e ciò che non si può vedere, ovviamente. Santo, santo, si apriva il paradiso con dei pensieri forse un po' più terreni di quelli che noi ci aspetteremmo da un uomo come San Gerolamo, ma aveva sicuramente la consapevolezza del fatto che la bellezza è una delle grazie più grandi che Dio è capace di regalare agli umani e noi questo ogni tanto lo trascuriamo. La Chiesa stessa un po', lo trascura. Qualche settimana fa il parroco di Resia, sperduto luogo nella montagna friulana, ha cacciato alcune delle mie studentesse che vengono anche da quelle plaghe molto lontane perché avevano una gonnellina un poco sopra il ginocchio. Allora, io mi sono fatto alcune domande e cioè probabilmente gli occhi del parroco erano molto attratti dalle ginocchia delle mie studentesse. Primo. Secondo, ma perché il corpo femminile deve essere sempre considerato come qualche cosa di peccaminoso? Nel momento in cui invece il corpo femminile è il simbolo stesso della grazia e della bellezza e se è vero quello che dicevano gli antichi e cioè che Dio non può creare nulla che non sia bello e che non sia gentile e simmetrico e armonioso capace di suscitare stupore e meraviglia perché castigare la giovinezza soprattutto quando vai in chiesa a pregare? Il risultato di quel parroco lì è che queste mie studentesse che ormai hanno 18 anni quindi sono anche grandi non andranno più a messa ed è una scelta che fanno loro spero che per coltivare la loro anima vadano magari a messa da qualche altra parte però capisco che dare esi a spostarsi verso Gemona per andare a messa la mattina bisognerebbe partire per lo meno alle 5 per offiziare ai riti delle 8 di mattina è un peccato e allora un uomo santo come il traduttore della Bibbia dal greco al latino ci insegna che la bellezza non è nulla di male bisogna vedere come la si porta come la si indossa se la grazia non diventa sfacciataggine non diventa ostentazione però questo vale anche per i maschietti è molto raro trovare un padre della chiesa all'epoca di San Gerolamo che tuoni contro i maschi generalmente sono sempre le donne quelle che vengono additate come pietre dello scandalo non è non è giusto facciamo un salto di secoli e arriviamo alla ben nota reprimenda fatta da Dante Alighieri sulla nostra lingua ormai questa la conosciamo molto bene nel De vulgari eloquenzia Dante passa in rassegna tutte le parlate italiche proprio tutte non se ne dimentica nessuna e le castiga tutte è veramente terribile Dante c'è qualcuno che viene trattato anche peggio di noi dei sardi ci viene detto che in realtà non sono proprio degli esseri umani ma sono delle scimmie delle scimmie che balbettano la lingua degli uomini con dei suoni talmente odiosi e talmente gutturali che sarebbe meglio che stessero zitti ma cioè dei suoi non vi dico quello che poi spende come parola dei suoi sodali delle città toscane per cui gli aretini sarebbero dei botoli ringhiosi per esempio botoli ringhiosi anche per quanto riguarda i friulani spende nel suo tristo esilio nelle parole diciamo lapidarie post hos ve lo leggo prima in latino poi lo traduciamo subito aquilegenses e dopo di questi arrivano anche gli aquileesi cioè noi etistrianos e noi lì cribremus li pizzichiamo in qualche modo li redarguiamo li critichiamo qui ces fastu i quali no ces fastu crudeliter accentuando eructuant perché generalmente quando parlano non parlano ma ruttano nel loro accento questa frase questa espressione ces fastu insomma cunque chis montanina somnes et rusticanas loquelas e icimus assieme alla loro noi gettiamo via tutte le parlate montagnarde montane e rustiche non ci piacciono que sempre mediastinis civibus accentus enormitate dissonare evidentu che sembrano proprio essere completamente dissonanti cacofoniche quindi non ci sarà mai poesia scritta in lingua friulana mai perché leggerla significherebbe mettere insieme una serie di suoni che sono più vicini ai rutti che non alle parole insomma è ovvio che è cicero prodomo sua perché secondo Dante la parola migliore era quella espressa dal fiorentino illustre chiaro lui veniva da lì e quindi voleva dimostrare che l'unica lingua capace di ereditare la dolcezza del latino e anche la profondità del latino e che non fosse il latino era questo fiorentino un po' scremato chiaramente detto a favore del poeta rispetto invece al melenso Petrarca scusatemi se ci sono degli estimatori del Petrarca ma Dante è capace di dominarla tutta la lingua tutta è capace di creare la dissonanza dell'osteria della taverna della strada del lupanare e la meraviglia del paradiso se andate nelle malebolge inorridite e le tai della puttana con le dita tuffate nella merda beh e poi passa vergine madre figlia tuo figlio quindi dimostrando una cosa che cerchiamo sempre di spiegare ai ragazzi che la lingua è uno strumento meraviglioso bellissimo che deve essere usato in tutte le sue competenze in tutti i suoi colori è come avere un guardaroba la capacità di saper spaziare nel proprio vocabolario un guardaroba al quale voi potete attingere per mettervi il vestito elegante per una sera carina oppure per un'occasione importante oppure potete mettervi gli short e gli infradito se andate a fare una grigliata con gli amici va bene tutto l'importante è avere la saggezza di saper indossare l'abito linguistico più adatto alla circostanza non ci sono parolacce ci sono solo parole che sono inadeguate suonerebbe molto strano se qualcuno vi supera proprio vicino ad un semaforo rosso abbassare il finestrino e dire lei è proprio una testa di glande è strano non lo diremmo mai useremmo un'altra espressione e sarebbe sicuramente più efficace e Dante questo ce lo racconta e ce lo dimostra in tutto nel suo bellissimo De Bulgari Eloquenze e poi arriviamo ad un altro grande un'altra grande corona della letteratura italiana Boccaccio quello che definì divina la commedia di Dante il primo estimatore tra l'altro quello che tenne le lezioni le prime letture d'Antis lo chiosò lo commentò lo lasciò risuonare in tutte le sue competenze in tutte le sue bellezze Boccaccio ambienta una bellissima novella in Friuli come saprete è la novella di Madonna di Anora siamo nella giornata in cui si canta l'amore puro e disinteressato l'amore che vince che vince sempre e comincia così questa novella che è un peccato non entra quasi mai a scuola si fa chichi bio si fa nastaggio degli onesti però la storia di Madonna di Anora generalmente non la si affronta invece è molto ghiotta e bella in Friuli paese quantunque freddo lieto di belle montagne di più fiumi e di chiare fontane è una terra chiamata Udine nella quale fu già una bella e nobile donna chiamata Madonna di Anora e moglie di un gran ricco uomo nominato Gilberto assai piacevole e di buona aria bello è già un bel inizio Madonna di Anora viene descritta come una moglie particolarmente affezionata fedelissima straordinariamente pronta ad assistere il marito in qualsiasi cosa che però oggi si direbbe viene o stolcherizzata si dice così stolcherizzare i ragazzi usano questi termini viene compulsata viene seguita da un tal cavaliere gradense che si è invaguito di lei è un uomo onesto non possiamo dire niente di questo cavaliere però è impazzito per la bellezza di Madonna di Anora e quindi comincia a farle dei regali le manda dei servi con dei presenti particolarmente ricchi lettere sigillate sonetti cibi squisiti glieli fare capitare in casa insomma lei non ne può più ed è anche molto imbarazzata per questo proprio perché è innamorata del suo sposo è innamorata del suo del suo compagno e allora un giorno lo affronta e gli dice guarda io mi concederò a te soltanto quando nel mese più crudo dell'anno tu riuscirai a far fiorire nel cuore di Udine un giardino come se fosse di primavera la donna è onesta è una dato l'incipit frioli paese quantunque freddo com'è possibile che nel cuore di Udine possa fiorire un giardino come di primavera è impossibile lei pensa di essersi liberata da questo fastidioso importunatore in realtà l'uomo va da un negromante da un mago e gli versa una cospicua somma di danaro perché compia una magia incredibile e un giorno in pieno inverno Madonna di Anora passeggia per Udine e vede che nel cuore della città sono sbocciate le viole le rose i fiori gli alberi da frutto e impallidisce impallidisce perché il cavaliere gradense viene a riscuotere la promessa di una donna onesta e a questo punto lei crolla va dal marito e gli racconta tutto immaginatevi la paura immaginatevi l'imbarazzo dice ma io gli ho proposto questo perché immaginavo che mai e poi mai sarebbe stato capace di realizzare questo suo disegno cosa devo fare il marito la guarda in faccia e gli dice ma io ho sposato una donna onesta e penso che la tua parola sia una parola che debba essere mantenuta a qualsiasi costo una donna onesta non va promettendo in giro ciò che poi non può mantenere tu gliel'hai promesso e tu adesso devi concederti alle sue grazie al che lei di bonda e con le gote arrossate assieme ad un'ancella si presenta nella casa del cavaliere gradense e gli racconta quello che il marito le ha ingiunto di fare e lui rimane profondamente commosso da questa cosa dice che razza di sposo straordinario avete madonna di anora e che grande amore deve avere lui nei vostri confronti per chiedervi di fare una cosa che sicuramente gli ripugna ma ripugnerebbe ancora di più l'idea di vivere con una sposa che non è capace di tenere a freno la lingua non è capace di mantenere le sue promesse allora facciamo così tornate dal vostro sposo e amatevi per tutto il resto della vostra vita come si conviene io non azzarderò mai più a molestare né voi né lui e poi prende il cospicuo danaro che aveva promesso al negromante il quale ovviamente si sarebbe fatto pagare tantissimo e glielo porta e il negromante dice allora siete rimasto soddisfatto avete visto quale grande artificio le mie arti sono state capaci di fare Udine nel pieno dell'inverno è tutta rifulgente di gemme fiorite e gli fa eh no no caro mio no vi pago quanto abbiamo patuito ma è andata male e gli racconta la storia e anche il negromante rimane colpito da questo fatto e non si vuole far pagare nulla gli restituisce il danaro gli dice vai torna l'amore è una cosa così bella ed è così importante che sarebbe un peccato che io guadagnassi per qualche cosa di cui voi non avete goduto il frutto siamo proprio all'apoteosi siamo nel punto più alto possibile è immaginabile oggi il negromante avrebbe fatto recapitare una parcella sostanzialmente no no lì no e questo è curioso perché il fatto che Boccaccio voglia identificare proprio in Friuli una signora di così alto rango e di così grande gentilezza e di così tenero amore nei confronti del suo sposo è uno sposo così rigoroso anche ci fa immaginare che questi mercanti toscani che frequentavano il Friuli ce n'erano tanti tantissimi i fantoni per esempio avevano industria di legno e ancora oggi i fantoni producono legno nella zona di di Gemona Osoppo avevano portato a casa delle notizie sul Friuli in cui si diceva che era abitato da gentili da gentili donne capaci di mantenere la loro parola e di sposi straordinariamente onesti e appassionati questo è un bello specchio che ci riguarda vi ho risparmiato quello che invece racconta il Sacchetti di noi c'è una novella divertentissima che è proprio ambientata a Spilimbergo di un zotico che si chiama Soce Bonell il quale vuole andare a comprare dei panni di lana e cerca di imbrogliare il sarto che è toscano cerca di imbrogliarlo di allungare di accorciare per pagare un po' di meno ecco lì Sacchetti non è molto gentile nei nostri confronti Soce Bonelli in friulano vuol dire sozzo cioè sporco e Bonelli cioè idiota quindi è un idiota cranioso sostanzialmente talmente stupido e talmente ottuso che alla fine credendo di gabbare se ne verrà fuori gabbato insomma sono due esempi molto lontani l'uno dall'altro e poi arriviamo ad un personaggio pordenonese che ritroviamo citato addirittura dall'Ariosto Ariosto conosce molto bene e lo elogia Andrea Marone vive tra il 1474 e il 1527 è un friulano è un pordenonese maestro nelle arti liberali ha aperto scuole di grammatica a Gemona a Venzone è stato il maestro di Jacopo Valvason di Maniago quello che ha scritto la meravigliosa descrizione della patria del Friuli era un uomo lodato e considerato proprio per la sua intelligenza e soprattutto per la sua sobrietà il fatto che finisca nelle carte dell'Ariosto sta a significare che era un personaggio estremamente ragguardevole molto molto importante e molto interessante e Ariosto lo inserisce nelle satire per dimostrare quanto sia preferibile la vita nascosta alla vita di corte la vita di chi preferisce il silenzio la solitudine piuttosto che il chiasso della moda degli incontri fa a mio senno Marone tuoi versi getta con la lira in un cesso e un'arte impara se benefici vuoi che sia più accetta ma tosto che ne hai pensa che la cara tua libertà non meno abbi perduta che se giocata te l'avessi azzara e che mai più se ben alla canuta età vivi e viva egli di Nestor questa condizione non ti si muta allora versi abbastanza oscuri ma si possono capire in breve con questo senso vuoi fare il poeta vuoi suonare la tua arpa far riecheggiare la tua poesia beh se non sei disposto ad inchinarti davanti ai signori buttala nel cesso è dura non diventare mai un cortigiano e glielo dice perché sa che Andrea Marone non era un cortigiano e non voleva esserlo ed è una cosa che ci fa pensare anche un po' ai nostri tempi quanto siamo disposti a mantenere la nostra integrità nelle cose che facciamo a mantenere alto il nostro profilo a non scendere mai a nessun compromesso a non dire un sì di troppo o un no troppo affrettato soltanto per compiacere il potente di turno quello che ci permette magari di pubblicare qualcosa o di avere una determinata visibilità attento mi dice Ariosto non fare questo errore se vuoi essere un poeta sia un poeta vero non quello che fa risuonare le sue corde per il padrone se no sarai semplicemente un servo e essere servi è brutto perché poi ti rimane l'olezzo addosso ti rimane una puzza non riesci a scansartela mai e poi un'altra anche molto bella piuttosto che arricchir voglio quiete bellissimo io non voglio essere ricco preferisco starmene per conto mio preferisco la pace la solitudine la compagnia dei buoni amici piuttosto che occuparmi in altra cura sì che inondar lasci il mio studio alete il qual se al corpo non può dar pastura lo do alla mente bello molto meglio dar da mangiare al cuore alla mente piuttosto che alla pancia e non sono in vendita questo fa dire sostanzialmente l'ariosto al nostro e vostro Andrea Marone molto intrigante molto interessante e anche nobile per la città di Pordenone e adesso invece arriviamo a dei quadri che sono un poco più nascosti perché Pietro Nelli lo conosce davvero lo conoscono in pochi è uno scrittore del 1500 1547 mette insieme questa raccolta di satire il secondo libro delle satire alla Carlona quando noi diciamo una cosa fatta alla Carlona sono parole messe insieme ma prende in giro politici la chiesa i ricchi i benestanti gli ottimati il quadro che ci restituisce è un quadro molto vivace è un quadro vivace della società del tempo scende un po' a giocare sul senso della correttezza sul politicamente corretto su quello che sia giusto dire fare pensare e le considerazioni che fa sono piuttosto interessanti allora alcuni titoli delle satire lodi delle corna rivolto ai mariti che evidentemente hanno delle spose piuttosto generose non con loro ma con il resto del mondo per esempio oppure malvagia che può anche essere letto malvagia e gioca col termine perché può essere o una donna malvagia oppure può essere la malvasia che è un buon vino in entrambi i casi possiamo dire che la donna malvagia e il buon vino malvasia ti possono dare la testa e devi stare molto attento devi prenderle con parsimonia oppure gobba non molto politicamente corretto fagioli e vi lascio immaginare quanto pneumatica sia e spirituale sia questa satira non voglio entrare nel merito del crepitus ventris come viene definito ce n'è ce n'è per tutti i gusti monna che non ha nulla a che vedere con madonna ma è quell'altra monna è un uomo molto salace è un uomo molto vero e ad un certo momento dice vada a Roma chi vuol vedere preteste o teste preti come al resto del mondo il vanto tolle chiozza del produr grossi ravanelli e il terre in padovan grosse cipolle travisio treviso trippe brescia buoni coltelli e il friul rape e carote cioè come dire volete trovare dei preti o dei curiali andate sicuramente a Roma è la cosa migliore lì ce ne sono tantissimi se invece vi interessano di più altre cose per esempio i grossi ravanelli andate sicuramente a chiozza se vi piace il terreno per le cipolle andate a padova se volete mangiare buone trippe andate a treviso in friuli troverete solo ed esclusivamente rape e carote ma è mica tanto gentile potremmo anche un po' arrabbiarsi e potremmo pensare che lo fa per prenderci in giro i furlani che mangiano le rape meglio se inacidite e quindi provada la ricetta già c'era la rapa acida e la carota che insomma è il cibo più semplice da mangiare la sponche mangiare cruda visto che lassù vivono soltanto dei contadini zotici avremmo potuto arrabbiarci in realtà non è un inchiostro tanto velenoso e lo scopriamo lo scopriamo subito a un certo momento ci parla della lingua e noi potremmo immaginare che nel gioco dell'equivoco si parli proprio di questa lingua qui che tra l'altro a me piace molto la lingua lessa la lingua lessata e dice il mio padron vostro compar mi ha fatto oggi signore un presente papale che un edipo faria diventar matto mi ha mandata una lingua secca in sale lunga un braccio una bella lingua di vacca o di vitello lunga un braccio che farebbe diventare matto anche edipo che era abbastanza sconclusionato come ben sappiamo ed è una lingua secca seccata una lingua sottosale interessante una linguaccia come regalo e qui è un'occasione per estendere la metafora dalla lingua della vacca alla lingua friulana la lingua dunque è un membro dei migliori dice il volgo la lingua esser senza osso ma bene essersi dura e gruppolosa che ben spesso fa rompere il dosso si dice la lingua è un organo che non ha osso però quanto male si può fare con la lingua puoi spaccare la schiena puoi spaccare la gobba a più di qualcuno se la sai usare bene una lingua ben concia e saporita fa che vi pare aver zucchero in bocca e ne leccate labbia e le dita ma non è la lingua che si mangia è la lingua che si parla che può essere saporita può essere salace può anche essere dolce vi può far leccare le dita i polpastrelli perché la lingua è tutto quello che noi abbiamo è il bene più prezioso che abbiamo soprattutto se la nostra lingua madre è la lingua che ci ha insegnato nostra madre quando appiccicavamo le labbra sul suo capezzolo e imparavamo a parlarla con i suoi canti con le sue nina nanne con la voglia di proteggerci quando ci sentivamo soli o avevamo paura la lingua è quello strumento che se voi riuscite ad usare al meglio farete paura sempre a chiunque dimmi come parli e ti dirò chi sei ti dirò come sei fatto il mio professore di filosofia diceva Floramo se continui a balbettare così la filosofia dovrò immaginare che i tuoi neuroni si sono scompaginati a tal punto che sei diventato un 88 io non riuscivo a capire che cosa fosse un 88 in terza superiore poi l'ho studiato e mi sono vergognato parecchio ma aveva ragione lui la compostezza del parlare le architetture che noi usiamo parlando sono l'arma più potente e possono renderci dolcissimi oppure aspri salati o dolci dipende soltanto da noi e poi va avanti continua non è finita lingua furlana adesso parla delle lingue che si parlano qui da noi lingua furlana è boccon signorile ma sai se ne battezza per furlane fatte poco lontano dal campanile è interessante la lingua friulana è schietta i friulani nel momento in cui usano la loro lingua non possono arrivare a infingimenti non possono imbrogliare nessuno perché è una lingua che non è fatta per imbrogliare è una lingua che è capace di raccontare il mondo per come viene visto è una lingua vera ruspante se volete anche piuttosto ruvida ma è vera però purtroppo accade che più di qualcuno la dissimuli lontano dal suo campanile una volta che ha perduto l'attaccamento alla sua terra meglio averia detto fate in beccaria di San Marco Venezia quando arriva Venezia e occupa il friuli comincia a livellare la lingua friulana non la si parlava più a Udine no? non si parla nemmeno adesso il friulano Pordenone già è difficile no? ci sono certe enclavi in cui lo si parla magari lo si capisce ma una delle operazioni che fece la Serenissima fu sicuramente quella di regalare questa lingua franca meravigliosa bellissima che si parla fino ad arrivare a Dubrovnik fino si parlava adesso è morta purtroppo per altre motivazioni che hanno a che vedere ancora una volta con la divisione con la politica con la sovrapposizione è la biodiversità che viene uccisa ogni volta che muore una lingua ma davanto al friul di un tal contento lingue furlane ancor che fossero nate cento miglia di qua dal tagliamento o fossero pur delle vacche impastate nei pestrini in Venezia assai più degne che le furlane con rape ingrassate cioè davanto questa schiettezza alla lingua friulana ed è una schiettezza che si perde nel momento in cui magari ci si trasferisce a Venezia per far mercatanzia per fare gli affari e si finge di non conoscere più la lingua friulana e lì nascono degli spropositi che sono incredibili che sono durissimi che si sono perdurati fino ai giorni nostri quanti quanti hanno dissimulato il non parlare la lingua friulana utilizzando un italiano improbabile facendo bruttissima figura perché poi semplicemente per dire che non parlavano il friulano mia mamma si ricorda mia mamma del 1940 che a scuola la maestra era particolarmente severa se scappava qualche cosa in lingua friulana mia mamma veniva da una famiglia contadina in cui ha parlato solo friulano fino ad arrivare al primo anno di scuola e ricorda questo episodio la maestra disse ai bambini avvisatemi bambini nel momento in cui il campanile scocca le 12 sentirete i 12 colpi e poi alzerete la mano e mi direte che ora è mia mamma sta molto attenta scatta il campanile suonano i 12 rintocchi lei alza la mano e fa maestra è suonato il mezzodiro il mezzodiro oppure negozio che non mi prendano sotto in friulano negozio che non mi chiappi in sotto vuol dire quasi quasi mi prendevano sotto negozio che non mi prendano sotto insomma nel 1500 il problema già esisteva il problema delle linguacce ma anche dell'orgoglio di saperle parlare facciamo un salto ulteriore ne arriviamo niente po' di meno che a Wolfgang Amadeus Mozart è è un passeggero interessante il 12 febbraio del 1771 Mozart assieme al padre si trova a Venezia a Venezia è l'ultimo giorno di carnevale martedì grasso quindi immaginate a Venezia grandi feste trascorre al teatro Giustiniano Giustiniani una serata interessante dove mettono in scena le contadine furlane dramma giocoso per musica curioso le contadine friulane che storia viene raccontata la scena la scena è una scena campagnola è un borgo della campagna friulana immaginate qualsiasi qualsiasi cosa ci sono un paio di case prato qualche campo le siepi il loggiato la loggia la lobby e due terrazzine ci sono due donne di paese una si chiama Tognetta e l'altra si chiama Sandrina che parlano tra di loro e soprattutto parlano dei loro amori che sono complicatissimi perché adesso vi chiedo un attimo di sforzo il fratello di una delle due di Tognetta che si chiama Meneghino è innamorato di Sandrina quindi dell'altra mentre c'è il padre di Sandrina che ha un nome abbastanza evocativo si chiama fastidio pensate voi vorrebbe godersi le grazie di Tognetta insomma la situazione è una situazione abbastanza complicata abbastanza complessa diventa ancora più complessa quando il signorotto del luogo il cui nome è ancora evocativo si chiama Caligo quindi i maschi non fanno una gran bella figura Caligo e fastidio si mette in testa di allungare le mani su entrambe le ragazze ma le ragazze sono sgaie e quindi complice il carnevale complice scrivo il morbin la vena popolaresca delle donne e loro si mettono in combutta e faranno fare una pessima figura a tutti i maschietti di questa commedia messa in musica per esempio c'è un passaggio in cui il signore Caligo si trova sotto la terrazzina di Sandrina e comincia a dirle che lui si sente ardere d'amore che brucia che sente la sua pelle che ormai non ne può più e lei che cosa fa acqua fresca agostrosissima che il suo fuoco ammorzerà lasci stare le contadine che bagnare fanno i merlotti brave brave cittadine che li fanno anche pelare quindi io sono soltanto una contadina non ti posso pelare non ti posso spennare questa è una cosa che fanno le mie colleghe donne in città che sono forse un poco più studiate di me però se ardi tanto per me io un po' di acqua fresca te la do e gli riversa una bacinella di acqua ghiacciata Caligo immaginiamo non sarà più così Caligo dopo quel dopo quel momento Chiari parla malissimo dei maschi anche dei maschi contadini non fanno una gran bella figura quando Meneghino prende il ben servito da Sandrina così dice piangerei più se invece di Sandrina perdessi una gallina ma vi immaginate no? una zucca una rapa un gran di fava Sandrina è una fralconaccia una pettegola una stramba una matta è la volpe quando non può mangiare l'uva no? si comporta sempre così e quanti casi conosciamo diamanti che vengono respenti e allora la donna diventa qualsiasi cosa e si consola in questo modo attenzione a Treviso Pasquetta Fornara a Marocco Lucia Lavandara cioè elenca tutte le donne che lui ha a Treviso a Pasquetta che è Fornara a Marocco in Laguna a Lucia che fa la Lavandara a Malghiera la Catte che è Massera Massaia sulla Brenta lo stessa di Stra a Venezia la Signora Bettina Menegazza ma aspetta a Fusina c'è poi tutta la razza di astrologhe in piazza lui dice cosa vuoi che mi interessi di te io ne ho una in ogni città è molto bella questa commedia in musica che Mozart poté vedere ascoltare e rimase sicuramente molto impressionato perché vi dà anche una topografia dei luoghi e anche le caratteristiche dei luoghi che vengono chiaramente frequentati da queste donne e questo ci aiuta a fare una piccola digressione su questo libro bellissimo veramente bellissimo illustrato di Gaetano Zompini vive tra il 1700 e il 1778 che scrive le arti che vanno per via nella città di Venezia è meraviglioso voi lo aprite e in versi oltre all'immagine vedete quali erano i mestieri che si svolgevano non solo quelli degli uomini ma anche quelli delle donne e tante erano furlane mi costa zerla venio fin da role e pignate furlane vendo oppure cazze sculieri canole debote aghi britole forfe ma a buon prezzo vago vendando in fin che se fa notte triste erano donne molto spesso bambine che erano costrette a viaggiare vendendo le cose che si facevano sulla terraferma le pignate le pignate friulane le cazze quindi i mestoli la chiace le scodelle le canole debote le canne le doghe per fare le botti aghi britole le bretelle le forfe le forbici la britole ha il coltello anche è vero ragione la roncola giusto quella piccola è vero è vero anche giusto giusto se vi capita di aprirlo lo trovate tutto in rete è una lettura straordinariamente interessante straordinariamente bella e poi continua insomma la storia Sandrina e Tognetta riescono a mettere insieme le loro le loro azioni prendono sostanzialmente in giro tutti e riescono alla fine a farcela 19 anni dopo questa è la cosa interessante il 26 gennaio del 1790 Mozart 19 anni dopo debutta a Vienna con Così fan tutte e se voi guardate in filigrana la trama di Così fan tutte non ritrovate sicuramente il mondo rusticano che viene proposto in questa commedia in musica ma tante tante sollecitazioni sì soprattutto l'intelligenza delle donne che vengono sempre sempre sottovalutate dai maschietti ma che alla fine riescono a metterli nella giusta dimensione questa è una cosa piuttosto interessante molto interessante e poi arriviamo più vicini ai giorni nostri cioè Giuseppe Benoni anche questo è assolutamente sconosciuto 1875 pubblica sempre a Venezia delle novelle che sono durissime nei confronti dei friuli ma molto dure come senata la nazione dei furlani un giorno San Pietro andando a spasso col Signore lo prega da che ha creato tante nazioni di far anche quella dei friulani il Signore gli osserva che i friulani saranno cattivi e bestemmiatori e per dimostrarlo discende da cavallo e col piede tocca dello sterco di cane da cui salta fuori un friulano eh pomario le disse sto furlan sono qua anciaio cioè la cacca del cane toccata dal piede salta su e parla in friulano e dice sono qua anche anciaio dice ha visto il Signore allora che dice a San Pietro se è vero che i blastema dice hai visto che bestemmiano davvero ben e così è nata la nazione dei furlani mamma mia eh altro che altro che politicamente corretto sempre lui una volta che era un piovane prete e sto piovane aveva tante vacche e per governare queste vacche aveva tolto un furlano aveva scelto un friulano uno che in combutta con la moglie decide di rubare una vacca al prete ma il bambino il figlio che è tremendo e che è dispettoso si mette su di un fico che si trova proprio davanti alla canonica e dice me ne cante e me ne ride mi sentà su ste fighe e mio pare garobà navaccia al piovane don Federigh il prete capisce che è stato il padre del ragazzino e dice senti di la stessa cosa in chiesa appena io finirò di fare la predica tu sali sul pulpito e ripeti davanti a tutti quello che hai detto adesso a me e il bambino che è furbo fiol de furlan e furbo sale e dice me ne canta e me ne ride mi sentà su ste fighe la penitente de don Federigh tutte gravie seto mia madre che si gravia de me pare cioè il prete ha messo incinte tutte le donne che vanno a confessarsi da lui e probabilmente anche mia madre che crede di essere stata messa incinta da mio padre terribile questa parentesi invece è molto seria perché ve l'ho inserita c'è uno studio molto interessante fatto due anni fa da una ricercatrice americana che prende in mano un processo che si è svolto a Venezia l'8 settembre del 1785 e che ha per involontaria protagonista una bambina friulana la bambina si chiama Paolina che viene violentata da un libertino di Vicenza che ha 60 anni e che ha fatto fortuna con l'industria della seta dove lavoravano moltissimi friulani lui come donna di servizio accoglie in casa la bambina era una cosa molto comune la madre è felice che Paolina vada a servir in casa di un signore così importante e in realtà il signore non solo mette le mani ma abusa e abusa molte volte di questa ragazzina lo inserisco perché questa non è una visione che viene dal mondo letterario ma molto spesso sono le carte d'archivio che ci raccontano queste storie la piccolina davanti al tribunale lo dimostra molto bene questo processo non può far altro che usare un linguaggio umile povero semplice non si capisce neanche quello che dice perché parla solo ed esclusivamente la sua lingua e il friulano in questo modo viene presentato come una condizione di totale minorità non riesce nemmeno a raccontare quello che l'è stato fatto perché nessuno è capace di ascoltarla nessuno è capace di capire quello che dice trasportate questa cosa nelle periferie delle grandi città nei minori non accompagnati in tante bambine in tanti bambini che vengono usati manipolati da chi da noi ricchi che non abbiamo nulla da perdere no? e la loro voce rimane ancora una volta una voce non ascoltata perché nessuno li sta a sentire mi avvio velocemente verso la conclusione questa lettura ve la consiglio è un altro autore molto poco conosciuto da noi Stefan Mitrov Liubisha siamo un pieno ottocento nasce nel 24 e mora nel 78 e scrive questo libro che è bellissimo Canios il friulano e il doge che storia è? Canios è un serbo montenegrino che viene da un paese della profonda realtà dei Balcani e il suo paese è venuto a patti con Venezia con la Serenissima Venezia dice se voi sarete i nostri sudditi fedeli Venezia vi proteggerà sempre se voi combattete contro i turchi in nome della Serenissima Venezia avrà uno sguardo buono nei vostri confronti in realtà non succede così arrivano i turchi e Venezia si gira dall'altra parte i turchi fanno strage e allora Canios che è piccolo è piccolino è magro non è un gigante non è un manutengolo balcanico montenegrino come potremmo immaginare decide di andare a Venezia per protestare contro il doge e a Venezia incontra un altro che in questo caso invece è un friulano che è andato a protestare per un motivo simile soltanto che il friulano è grande è grosso è un besteon l'opposto del serbo e il doge astuto vedendo che ci sono due contendenti che vengono a protestare per ragioni non dissimili anche il friulano si sente gabbato da Venezia che viene che taglia gli alberi che impone le tasse dice ma scusate combattete voi combattete tra di voi no? il montenegrino combatta contro il friulano e vediamo che cosa succede e per quanto il friulano sia grande grosso e possente il montenegrino riesce a buttarlo per terra e a ucciderlo ma poco prima di essere ucciso il friulano dice al montenegrino ma scusa ma ti rendi conto cosa stiamo facendo noi stiamo morendo e stiamo combattendo tra di noi invece di riuscire a far fronte comune nei confronti del padrone nei confronti del signore tu uccidi me ma uccidendo me tradisci anche la tua gente è un momento in cui la Serbia siamo nel cuore dell'ottocento sta cercando di raccogliere l'elemento romantico no? l'unione di tutti gli slavi di tutti gli slavi del sud quelli che diventeranno gli yug vuol dire sud slavi gli yugoslavi e guarda al mondo alto adriatico come ad un mondo che è ancora incorrotto e che forse ha ancora qualche cosa da dire da insegnare addirittura ai serbi lontano dalla bellezza delle mura della città lontano dalla grandezza del doge i popoli poveri dovrebbero essere popoli affratellati e invece di sgozzarsi a vicenda dovrebbero combattere contro il padrone siamo all'altezza dei capponi di Renzo per intenderci per fare una citazione ecco il Furlan e poi Ivo Andric non si può vivere senza aver letto il ponte sull'Adrina non si può premio Nobel una scrittura densa meravigliosa è una grande metafora un ponte costruito da un sultano turco agli inizi del 1400 poi la storia che corre su quelle arcate fino ad arrivare alla prima guerra mondiale quando verrà fatto saltare in aria beh in questa storia c'è un Furlan viene chiamato proprio così il Furlan con la sua fisarmonica che è lì per lavorare è un emigrante friulano e viene descritto in una maniera straordinaria taciturno silenzioso pieno di malinconia pieno di nostalgia innamorato di una zingara bellissima che quando respira la notte la zingara dietro le persiane al seno così turgido ed è così infuocata da amore pensando agli uomini che la desiderano che piano piano respira e il seno si alza e alzandosi il seno si sposta la tapparella e poi lei respira e la tapparella si avvicina è di una sensualità incredibile riprendetelo in mano perché è veramente molto bello e finisco finisco con Ernest Hemingway che in addio alle armi famosissimo romanzo ambientato tra l'altro anche a Caporetto fa delle considerazioni molto interessanti sulla nostra terra ad un certo punto fa capire fa pensare che questi territori non sono mica territori italiani cioè lui dice io non vedo Italia da queste parti c'è qualcosa di strano dice c'è qualcosa di diverso tra l'altro i soldati italiani che combattono qui dicendo di essere qui per liberare queste terre le terre irredente si comportano malissimo con le ragazze con i contadini rubano portano via le cose è l'atteggiamento di un popolo che libera e in un altro racconto meno noto The Nick Adam Stories i racconti di Nick Adam ci presenta un altro soldato statunitense che è presente qui nella zona di Fossalta tra l'altro e comincia a pensare a quanto sia strana la vita di questa curiosa congerie di donne e di uomini che vivono in questa parte strana del mondo che hanno dovuto abbandonare le loro case le case sono state occupate dai soldati ma non dai soldati crucchi non dai soldati tedeschi dai soldati italiani che li trattano male li trattano con disprezzo con sufficienza fa una descrizione bellissima di questa grande casa gialla dove si sente sul sul chiast sulla soffitta il rumore che fanno i bacchi da seta quando mangiano la foglia del gelso e lui sovrappone questa immagine al rumore della storia la storia dei poveri quelli che sono senza storia diceva Tito Maniacco grande intellettuale friulano i campi che sono depredati e ancora una volta una ragazzina come la ragazzina di prima quella del processo che viene avvicinata da una camionetta di soldati americani viene fatta salire ma non per farle del male e lei comincia a parlare una lingua dice di cui non si riesce a capire nemmeno una parola è la lingua friulana è un'attestazione della lingua friulana in un racconto di Ernest Hemingway io chiudo con questa immagine non ha nulla a che vedere con lo sguardo degli altri su di noi ma ha a che vedere con lo sguardo nostro sugli altri il pianto di Paolina nel processo del 1785 Paolina che è stata stuprata dal suo padrone Paolina che potrebbe aver avuto una manciata da anni il padrone ha più di 60 anni il pianto della ragazzina che viene raccolta dalla camionetta di militari statunitensi non sa che cosa le sta capitando e piange e cerca di far fugliare qualche cosa nella lingua di sua madre ma non viene capita è quel pianto lì non è dissimile da quel pianto lì è lo stesso pianto che voi che noi a malapena riusciamo ad ascoltare Gaza Askelon non importa non fa differenza Donbass Kiev non fa differenza chi rimane nel mezzo molto spesso quasi sempre lo dicono le cronache al 95% sono loro sono i bambini le madri i vecchi che hanno questo sguardo che è rivolto verso di noi allora c'è uno sguardo rivolto verso di noi dalla grande letteratura da San Gerolamo fino ad arrivare a Ernest Hemingway oggi abbiamo fatto questa passeggiata molto veloce però c'è anche quello sguardo lì che è identico a quello raccolto da quegli intellettuali che oggi abbiamo messo un po' così in maniera maldestra in galleria io credo che studiare leggere la letteratura frequentare le sale da teatro sentire i concerti a che cosa serve? serve a cambiare il mondo? serve a mettere fine alle guerre? ad asciugare quelle lacrime lì? no no sicuramente no però se serve a qualcosa è perlomeno renderci un po' più consapevoli perlomeno a far finta a non far finta che ci siano ancora quelle lacrime perché ognuna di quelle lacrime alla fine è inevitabile verrà addebitata sul nostro conto e qualcuno non so ben dire chi ci renderà testimoni di questa indifferenza buona prosecuzione di vita e grazie per tutta la vostra attenzione grazie 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 grazie